musica la COP21 è veramente l'ultima occasione che abbiamo per fare delle scelte energetiche fondamentali per impedire che l'inalzamento della temperatura raggiunga i due gradi quello sarebbe veramente un cataclisma non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e sociale noi ci aspettiamo che i governanti ascoltino queste piazze e facciano la cosa giusta e non possiamo curare i nostri rapporti con la natura senza guarire anche la vita che non si rapporti tra persone rispetto per salvare il clima torre del cambiamento energia pulita un futuro con l'energia ricavata da fondi rinnovabili vita futuro biodiversità per il clima che per la pace salvezza bambini non air Grazie a tutti.